Siamo orgogli di vivere e comunque rispettiamo anche comunque gli italiani perché comunque noi non ci sentiamo dei clandestini ma siamo a casa nostra e questo dobbiamo dimostrarlo l'Italia dovrebbe avere la possibilità di accoglierci tutti quanti questo è vero che è nostra dignità noi siamo tutti cittadini del mondo grazie a tutti e ciao grazie a Michelle